Ufficializzato il rinnovo per una seconda stagione, il pubblico di Nero a Metà comincia a domandarsi come si evolverà la fiction di Rai 1. Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Netflix, Nero a Metà ha fatto presa sugli spettatori nell'autunno 2018. Ma non solo, perché ha fatto riscoprire a Claudio Mendola l'amore per la TV e lanciato il talento di Miguel Gobo Diaz. Le avvincenti avventure dell'ispettore Carlo Guerrieri hanno appassionato tanto quanto la sua divertente rivalità con l'ambizioso Malik Soprani. Temi delicati come l'immaginazione e la diffidenza delle vecchie generazioni verso le nuove hanno arricchito la serie innestandosi sul genere giallo. Tutti questi ingredienti sono risultati infine indispensabili per realizzare una stagione 2 di Nero a Metà, confermata dalla Rai e di cui vi daremo tutte le anticipazioni su quando esce il cast e la trama dei nuovi episodi. Le riprese dei prossimi episodi di Nero a Metà 2, ancora una volta nel cuore di Roma, sono iniziate a maggio 2019, quando il cast è tornato sul set. Miguel Gobo Diaz, Alessandro Sperduti e Rosa Diletta Rossi ne hanno infatti dato l'annuncio attraverso i social, dove hanno caricato un selfie di inizio riprese. L'uscita della stagione 1 è avvenuta a novembre 2018, ma quando esce Nero a Metà stagione 2? Il debutto dei nuovi episodi, messi in conto i tempi necessari alla post-produzione e al montaggio, dovrebbero avvenire nuovamente in autunno, tra settembre ed ottobre 2020. Tuttavia ancora non abbiamo ricevuto informazioni più dettagliate. Claudio Mendola ha però rivelato a Repubblica che la serie avrà anche una terza stagione, attualmente in lavorazione. Ancora una volta, Rai Fiction e Netflix dovrebbero collaborare alla realizzazione di altri 12 episodi, di 50 minuti ciascuno, articolati in 6 puntate tradizionali. Ma di che cosa tratteranno stavolta? La seconda stagione di Nero a Metà avrà dunque una durata pari a quella della prima. Ugualmente, gli sceneggiatori concepiranno il nuovo intreccio, seguendo due diverse direzioni. Quella verticale dell'intagine più importante e quella orizzontale dei diversi casi di puntata. In linea generale, possiamo però dare le seguenti anticipazioni sulla trama della stagione 2 di Nero a Metà. Malik e Carlo riceveranno entrambi il riconoscimento di ispettori superiori, salendo di grado e di rispettabilità verso i colleghi. Ancora una volta, dovranno collaborare provando ad andare d'accordo, ma come è già accaduto, non si rivelerà affatto facile. Dal punto di vista sentimentale, Carlo si è finalmente impegnato con Cristina al punto tale che sta per posarsi con la fioraia. Malik, invece, è ancora alle prese con le intermittenze di Alba, che alla fine della stagione 1 lo ha allontanato, preferendogli Riccardo. Sul versante professionale, invece, i due ispettori fanno ulteriori passi nel caso Bosca. Ora che è messa la verità su Clara, la moglie di Carlo e madre di Alba, data ad anni per morta, ricominceranno le ricerche per ritrovarla. E anche fra i personaggi di contorno, non mancano gli spunti per infiocchettare al meglio la trama della stagione 2 di Nero a Metà. Per esempio, come si evolveranno le cose tra Cantabella e la Repuela, che ha finalmente partorito il loro bambino. Questo è tanto altro nei nuovi episodi della fiction di Rai 1. Veniamo a questo punto al tema del cast di Nero a Metà 2, cercando di capire chi ritornerà sul set della seconda stagione. Dalle anticipazioni in nostro possesso, è chiaro che i due protagonisti non potranno assentarsi dei nuovi episodi. Così anche l'interprete della figlia di Carlo, gran parte della squadra mobile, è la stessa nuova dirigente. Mancano al momento ancora altre novità sul cast di Nero a Metà 2, che si sapranno però sicuramente più a ridosso del debutto della seconda stagione. Nero a Metà è tra le fiction disponibili in streaming non solo su Rayplay, dove al momento della messa in onda finirà anche la stagione 2, ma anche su Netflix. Mentre la piattaforma Rayplay è liberamente consultabile senza bisogno di un abbonamento, ma è comunque necessario accedere con un profilo che attesti la maggiore età degli utenti, Netflix è un servizio in abbonamento. Per abbonarsi a Netflix bisogna accedere al sito ufficiale della piattaforma e compilare l'apposito modulo di iscrizione. L'abbonamento non ha vincoli, è un costo mensile che varia dagli 8 ai 16 euro, a seconda del numero di schermi e dalle qualità dell'immagine che si preferisce avere. Grazie.